Fosso Grande resta un rischio per i suoi residenti. Dopo l'alluvione di due anni fa, che causò danni ingenti in tutta la regione, oggi tornano a parlare gli abitanti colpiti da quei danneggiamenti. Da anni che a tutt'oggi non hanno ottenuto attenzione dalle istituzioni. Si parla di attività commerciali, case, autovetture. La situazione è uguale al 2013. Non è cambiato niente. Siamo stati consigliati, tra l'altro entro qui la perizia, di fare una perizia più bassa, perché ci hanno detto che forse il Comune ci avrebbe restituito almeno la metà dei danni. Nel mio caso ne ho avuto 30.000, ho chiesto 15.000. Abbiamo subito danni negli appartamenti. Io ho un piccolo garage, ho dovuto buttare tutto. Mia zia che stava a fianco a me, diciamo, alla palazzina a fianco, alla casa a fianco, ha subito danni ingenti, ha dovuto buttare tutti i mobili. Noi nel nostro condominio abbiamo perso 22 macchine. 22 macchine buttate. Quindi adesso quando c'è un'emergenza, quando sentiamo dalla televisione che arrivano forti i temporali, siamo costretti a tirare fuori le macchine e a parcheggiarle per strada. Quando arriva l'acqua incontra la tombatura, diciamo, piccola, e pertanto la massa d'acqua non riesce a passare. E in più incontra tutti i residui che vengono buttati dai cittadini ben pensanti che, ostruendo ancora di più questa bocca di ingresso dell'acqua, fanno sì che l'acqua tracima e va a finire chiaramente presso le aziende o presso le abitazioni. Ad intervenire e raccogliere la loro denuncia, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che spiega la necessità di un imminente intervento della regione per mettere a disposizione fondi per operare manutenzione e lavori di messa in sicurezza. Un anno fa la regione è stata costretta a stanziare 400 mila euro per la messa in sicurezza di Fosso Grande, ma questi fondi si sono rivelati subito esigui. Qui c'è da fare un intervento strutturale che consiste nel bacino di espansione a monte del ponticello vicino a Via Francia e un salto idraulico che possa smorzare l'impeto delle acque a Valle del Ponticello.